Dopo due anni di calo torna a crescere la spesa mensile delle famiglie italiane. Nel 2016, dicono i dati Istat, è stata di oltre 2.500 euro, in rialzo dell'1% rispetto al 2015 e del 2,2% rispetto al 2013. Si consolida a un ritmo moderato, spiega l'Istat, la fase di ripresa dei consumi, anche se il livello rimane ancora al di sotto di quello del 2011. In particolare, boom ha dei consumi nelle grandi città, dove ogni mese le famiglie spendono in media quasi 2.900 euro, oltre il 10% in più rispetto al 2015. Partendo dalla spesa media, si nota anche un cambio di dieta degli italiani, con, secondo l'Istat, una crescente attenzione ad un'alimentazione più corretta. Su una spesa di circa 450 euro mensili, pur rimanendo una voce importante, torna a diminuire la quota per la carne, mentre aumenta quella per la frutta. I rialzi maggiori riguardano pesce, prodotti ittici, tornano poi ai livelli pre-crisi le spese per i servizi ricettivi e di ristorazione. Se si restringe il divario nei consumi tra nord e sud, spicca la forte differenza tra i nuclei familiari di soli stranieri e quelli di soli italiani. Al mese, infatti, le famiglie straniere spendono circa 1.000 euro in meno. Gli sborsi, in questo caso, si concentrano su beni e servizi essenziali, ad esempio il 21% è destinato agli alimenti, bene il 38% all'abitazione, e si risparmia su ricreazione e ristorazione. Più elevata invece è la spesa per le comunicazioni, soprattutto per effetto dei contatti con i parenti nei paesi d'origine.